Corrado Oddi, Forum Acqua e Bene Comune. A tre anni dal referendum sull'acqua che punto siamo rispetto alla dipubblicizzazione? La prima cosa che va detta è che un risultato il referendum l'ha acquisito, lo dico perché molto spesso ci si dimentica, e cioè se non avessimo abrogato la normativa che obbligava alla privatizzazione, alla fine del 2011 ci saremmo trovati con la completa privatizzazione del servizio idrico del nostro paese. Questo è il risultato che abbiamo acquisito, però il referendum ha detto molto di più. Il referendum, soprattutto in termini politici, hanno indicato la strada della ripubblicizzazione del servizio idrico e hanno detto che non si possono fare i profitti sull'acqua. Da questo punto di vista, invece, ci tocca constatare a quasi tre anni di distanza che su quest'esito i referendum sono largamente disattesi, se non apertamente contraddetti. Il processo di ripubblicizzazione a parte Napoli, che ha completato il processo di trasformazione dal soggetto gestore che era un SPA totale capitale pubblico in azienda speciale, diceva a parte Napoli tutto il resto è fermo nel paese. Anzi, stiamo assistendo al fatto di tornare indietro. Se penso, per esempio, alle scelte che si stanno facendo a livello nazionale, siamo nuovamente alla vigilia di una grande ondata di privatizzazione. Le privatizzazioni vengono annunciate dal precedente governo, ma anche da questo come privatizzazione delle poste, delle ferrovie, delle grandi aziende pubbliche nazionali. E ci aspettiamo che la prossima fase intervenga per rilanciare le privatizzazioni anche dei servizi pubblici locali. Poi, ragionando sul secondo referendum, proprio quello che aveva abrogato la cosiddetta remunerazione del capitale investito, cioè il fatto di fare profitti sull'acqua, purtroppo, proprio nei giorni passati, è arrivata la sentenza del Tar rispetto alle nuove tariffe che, come forum dell'acqua, assieme a Federconsumatorio, avevamo impugnato. Quella sentenza è una sentenza che conferma il metodo tarifario, dà torto al nostro ricorso. e, soprattutto, la cosa grave di questo pronunciamento, al di là del fatto che, come tutti i pronunciamenti, li rispettiamo, però, appunto, ci viene dato torto con una argomentazione che, in buona sostanza, dice che il servizio idrico va messo sul mercato. Si dice, facendo un giro di parole abbastanza strano, che non ci sarebbe il profitto, ma il costo del capitale. Ecco, anche questa sentenza ci fa dire che, appunto, a tre anni di distanza, in realtà, quello che doveva succedere, e cioè il fatto che l'acqua fosse messa fuori dal mercato, il servizio idrico venisse ripubblicizzato, appunto, quel risultato, invece, viene ostacolato. E questo, probabilmente, è il motivo per il quale oggi siamo qui a Marzabotto a parlare di Costituzione. Oggi quanto c'entra questo tema con la Costituzione e la democrazia nel nostro Paese? C'entra molto, perché, appunto, semplicemente ragionando su quello che è successo al pronunciamento di 27 milioni di cittadini italiani, vedere che quella maggioranza assoluta che ha detto quelle cose, in realtà, appunto, non viene ascoltata, beh, questo significa che c'è un enorme problema di democrazia. E la democrazia sta a braccetto con la Costituzione. Oggi la battaglia per la Costituzione e per la sua passione, io penso, passi soprattutto attraverso il fatto che, appunto, che bisogna riaffermare nuovi strumenti di democrazia, bisogna dire che i beni comuni non vanno messi sul mercato, bisogna dire che il lavoro deve tornare a essere un diritto. Tutto questo non succede. Da questo punto di vista, la nostra è una battaglia per la democrazia e una battaglia per l'attuazione della Costituzione. Infine, penso anche che tutte queste questioni si saldino attorno al tema delle risorse, della finanza, della ricchezza. Per esempio, è noto che da non molto è stato inserito nella Costituzione il famoso pareggio di bilancio. Questa è una cosa che, per esempio, impedisce la ripubblicizzazione del servizio idrico, ma contemporaneamente strangola gli enti locali, ma contemporaneamente impedisce che si possano fare scelte alternative rispetto all'austerity. Ecco, difendere la Costituzione, per esempio, significa anche mettere in discussione il pareggio di bilancio, mettere in discussione la scelta del fiscal compact che ci proviene dall'Unione Europea e quindi, in qualche modo, vedere che c'è un filo che tiene insieme le battaglie sui beni comuni, sul lavoro, sulla democrazia, per attuare la Costituzione. La battaglia dell'acqua di recente è passata anche attraverso l'Europa. C'è stato un processo che ha raccolto 1.800.000 firme in tutta Europa per richiedere la ripubblicizzazione. Qual è stato l'esito di quell'evento? Anche da questo punto di vista ci tocca constatare che anche la Commissione Europea non risponde alla voce dei cittadini. Tu facevi giustamente riferimento al fatto che il Movimento dell'Acqua, su scala europea e dentro il Movimento dell'Acqua, in particolare il Sindacato Europeo dei Servizi Pubblici, ha attivato questo nuovo strumento che si chiama Iniziativa dei Cittadini Europei. È la prima volta che viene attivato questo strumento in base al quale, se si raccolgono almeno un milione di firme in almeno sette paesi europei, la Commissione Europea poi deve pronunciarsi. Noi abbiamo raccolto più di 1.800.000 firme. Abbiamo posto tre questioni importanti. La prima è che l'acqua venisse considerata diritto umano universale e quindi che l'accesso all'acqua potabile fosse garantito a tutti i cittadini europei. Il secondo tema era il fatto che la Commissione Europea dichiarasse che il servizio idrico non può essere privatizzato. e il terzo è che l'acqua venisse esclusa da tutti i negoziati e i trattati internazionali. Cosa di assoluta attualità se si pensa che in questo momento si sta negoziando tra Stati Uniti e Unione Europea un nuovo trattato di libero scambio che significa, come dire, anche su questo versante far sì che il mercato diventa regolatore assoluto. La Commissione Europea si è pronunciata circa dieci giorni fa in un modo che noi giudichiamo sostanzialmente deludente nel senso che sì, ha affermato che sulla prima questione acqua diritto umano, questa è una questione condivisa dicendo però che l'Unione Europea sta già muovendosi in questa direzione e sulle altre due questioni, appunto, la non privatizzazione e il fatto di escludere l'acqua dei trattati internazionali sostanzialmente non ci ha risposto. Questo appunto pone ulteriormente, soprattutto nel momento in cui siamo alla vigilia di una scadenza elettorale europea, anche nella dimensione europea un problema di democrazia e ovviamente per quanto ci riguarda sia per quanto attiene le questioni di carattere nazionali sia per quanto riguarda l'Europa, la nostra battaglia va avanti ed è una battaglia che appunto si salda sempre di più con le questioni e con le ragioni della democrazia.